Al Moscati di Avellino è stata inaugurata oggi alla presenza dei vertici della governance dell'ospedale del governatore Vincenzo De Luca l'attivazione del nuovo servizio di chirurgia mini-invasiva robotica per l'onco-ematologia. Si chiama Da Vinci, il nuovo sistema che conferma l'alta specialità dell'ospedale di Avellino. Abbiamo i professionisti che hanno esperienza di chirurgia robotica e abbiamo preso questa decisione proprio perché c'erano le condizioni in questo ospedale per poter prendere il robot Da Vinci. E sull'Andolfi avanti tutta, come ha confermato il presidente De Luca già nella prima tappa di una mattina terpina che si è aperta a Montoro per l'inaugurazione del primo centro antidiabete della Campania. Noi nel nostro territorio abbiamo previsto la realizzazione di 10 centri pubblici di prelievo. Nel comune, possiamo elencare il presidente, nel comune di Avellino, a Tripalda, qui a Montoro, Cervinara, in Altirpini, a Montella, Calitri, Vallata e Mirabella e Clare. Quindi sono 10 sul nostro territorio. Sull'Andolfi conferma la strategia il manager Pizzuti. Noi tra l'altro abbiamo investito tutti e 12 milioni di euro destinati a Solofra e ci siamo impegnati appunto a consegnare l'intero ospedale per la fine di quest'anno. E sul caso del pronto soccorso al collasso nessun dubbio per Pizzuti. Un caso nazionale, non solo campano. Ci sono i problemi che hanno tutti gli ospedali a cominciare dal Cardarelli, ma per arrivare anche a Milano, a Torino. Ci sono pochi medici di medicina e chirurgia di accettazione d'urgenza. Questo è un gap che si potrà colmare solo nel tempo, grazie se il ministero appunto destinerà più risorse alla formazione di questi medici.